amici che bella questa poesia di quasimodo composta nel 1945 vedremo subito in che occasione e pubblicata nel 47 come lirica di apertura della raccolta giorno dopo giorno una sola strofa di dieci versi ende casilla bisciolti giustamente famosissimi e ahimè così attuali le sofferenze provocate dalla guerra sono infatti l'ispirazione e il tema della poesia che io voglio presentarvi così anzitutto un accenno breve ma importante all'episodio di storia italiana da cui prende spunto la lirica e a cui si riferiscono le sue immagini poi ce la leggiamo anzi sapete che vi dico ve la faccio leggere da un'attrice di teatro d'eccezione infine commento con l'analisi delle figure retoriche è l'otto settembre 1943 siamo in piena seconda guerra mondiale mussolini viene deposto di conseguenza l'italia prima alleata dei tedeschi si ritrova loro nemica a fianco degli angolo americani immediatamente le truppe naziste occupano gran parte dell'italia settentrionale ed ecco il piede straniero sopra il cuore del verso 2 il periodo dell'occupazione nazista in italia quasi due anni costellati dai cidi deportazioni azioni di resistenza fra questi l'episodio più tristemente noto è sicuramente la strage di piazza loreto 10 agosto 1944 15 italiani ribelli furono fucilati e i loro corpi lasciati per ore e ore al sole coccente dell'estate come era abitudine dei nazisti affinché la vista dei cadaveri fosse di monito e di avvertimento per chiunque pensasse di fare resistenza e questi sono i morti abbandonati nelle piazze del verso 3 in quella stessa piazza loreto il 29 aprile 1945 veniva impiccato mussolini mentre nella reggia di caserta si firmava l'armistizio con gli anglo americani che poneva fine alla terribile guerra ed è proprio in seguito all'arresa di caserta che quasimodo compone la sua poesia e come potevamo noi cantare recita infatti il verso 1 dove con quell'imperfetto il poeta ci proietta in una situazione ormai passata ma ancora così vicina e così dolorosa allora ascoltiamo vai mamma e come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore fra i morti abbandonati nelle piazze sull'erba dura di ghiaccio al lamento d'agnello dei fanciulli all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo alle fronte dei salici per voto anche le nostre cetre erano appese oscillavano ieri al triste vento e incominciando il commento voglio subito farvi notare un particolare che di solito non trovate nei libri questa poesia ha una struttura circolare o ringspildung struttura ad anelli si apre infatti con il tema del cantare al verso 1 si svolge poi con una serie di immagini dedicate alla guerra e si chiude riprendendo il tema del canto rappresentato dalla cetra vedete quindi che dopo aver compiuto il suo percorso tematico ritorna al punto di partenza e per questo si chiama struttura ad anelli ora di quale canto si parla in che senso il poeta domanda come potevamo noi cantare c'è intanto un riferimento biblico diretto il salmo 137 nel 586 avanti cristo il re babilonese nabuco donosor occupa e distrugge gerusalemme la popolazione ebrea viene deportata a babilonia e lì in esilio scrive sospese ai pioppi di quella terra tenevamo le nostre cetre come cantare i canti del signore in terra straniera e vedete qui l'ispirazione diretta di quasimodo la voce degli esuli rimane muta per la nostalgia della propria terra quella del poeta rimane muta perché soffocata dal piede straniero sopra il cuore e la cetra sospesa ai pioppi recita il salmo appesa alle fronte dei salici quasimodo la sostituzione dei pioppi con i salici naturalmente non è casuale salici piangenti vengono infatti comunemente chiamati questi alberi che con le loro fronde ricadenti simboleggiano il pianto e fra l'inizio e la fine si snoda la parte più sofferta della lirica le immagini di dolore e distrazio provocati dalla guerra i morti abbandonati nelle piazze il verso 3 se avete seguito la mia introduzione storica sapete già a cosa si riferisce il lamento daniello dei fanciulli e dopo la citazione quasi diretta del salmo ecco un altro riferimento biblico l'agnello infatti non è qui semplicemente un simbolo abbastanza comune di innocenza e di persona innocua ed indifesa ma è anche un'immagine dal sapore più arcaico esso è infatti la vittima sacrificale per eccellenza presso molti popoli antichi e anche appunto nei testi biblici e un terzo riferimento biblico lo troviamo nell'immagine più cruda e più forte di questi versi il figlio crocifisso sul palo del telegrafo la crocifissione tortura antica che tramite quella di cristo è entrata a far parte del patrimonio culturale di tutti i credenti e non credenti e che viene qui proiettata nel mondo contemporaneo attraverso l'immagine prepotentemente moderna del palo del telegrafo che si sostituisce alla croce e adesso un rapido esame delle figure retoriche presenti nel testo però con un'avvertenza un approfondimento su di esse ve lo offro nell'articolo dedicato che trovate nel mio sito internet al termine del video potete andarlo a leggere il link come sempre lo trovate nella descrizione in basso subito incontriamo una domanda retorica e come potevamo noi cantare per trovare poi al verso 2 il piede straniero sopra il cuore sia una metafora che una doppia sineddoche il piede straniero che simboleggia gli eserciti nemici e il cuore che sta a simboleggiare il popolo invaso lamento d'agnello metafora o meglio ancora analogia basata su un parallelismo fra il pianto del bambino e il belato degli agnelli notate anche i ripetuti enchantment lamento d'agnello urlo nero della madre figlio crocifisso e ancora una metafora alla fine il triste vento e concludo con la mia preferita tra le figure retoriche di questa poesia su cui invece mi voglio soffermare l'urlo nero della madre bellissima potente sinestesia accostamento tra campi sensoriali diversi urlo udito nero vista quanto sarebbe stato banale un urlo straziante terribile disperato quest'urlo invece è nero il colore del lutto del buio del baratro e noi riusciamo quasi a sentire la voce di questa madre che precipita vorticando in un baratro di disperazione dunque cosa ci ha voluto dire trasmettere il poeta con questi versi beh un primo messaggio è evidente testimoniare gli orrori della guerra appena vissuta tenete anche presente che la raccolta giorno dopo giorno appartiene al cosiddetto momento civile della poesia di quasimodo quella composta a partire dal dopoguerra in cui il poeta messi da parte i modi dell'ermetismo a cui in passato aveva aderito e anche un certo suo gusto quasi estetizzante per la parola si rivolge ad una poesia più impegnata e anche stilisticamente più lineare e dai contenuti più immediatamente comprensibili c'è però un altro messaggio meno evidente ma non meno importante che investe il ruolo e il senso della stessa arte poetica scrivendo come potevamo noi cantare e attraverso l'immagine dello strumento musicale appeso ai sadici il poeta ci sta dicendo che di fronte alla tragedia collettiva anche la poesia rimane muta senza voce in parte per un senso di inutilità in tempi duri e grammi anche l'arte arriva a sentirsi vanacosa e in parte per un senso che definirei di religioso pudore ce lo testimonia quel sintagma per voto fronte ai morti abbandonati nelle piazze d'obbligo è il silenzio e le cetre appese come voto che testimoniano un'avvenuta priera il cui contenuto possiamo immaginare